Grazie a Natascia Gargano. Allora si chiama Ferragosto in carcere, l'iniziativa promossa tra gli altri dall'Unione Camere Penali e dal Partito Radicale. Alcuni rappresentanti oggi hanno visitato le carceri della nostra regione per vedere qual è la situazione. Con Rossana Vesnaver siamo andati al Coroneo, vediamo. Nella giornata per tradizione votata al divertimento in spiaggia, il Partito Radicale e i rappresentanti dell'Unione delle Camere Penali hanno fatto visita a chi il sole lo può vedere soltanto dietro le sbarre. Un'iniziativa che riguarda fino al 18 agosto 70 luoghi di detenzione in Italia. Oggi è toccato alla Casa Circondariale di Trieste. È in buone condizioni anche rispetto ad altri carceri della regione che invece non sono altrettanto buone. Io penso in particolare alla parte non restaurata del carcere di Gorizia e al carcere di Pordenone che sono in condizioni decisamente peggiori. C'è però un oggettivo problema sovraffollamento. 194 presenze per 145 posti, 119 stranieri, 62 le celle. I detenuti lamentano in particolare in alcune situazioni che questa è una delle emergenze anche del periodo. Non c'è climatizzazione. Non c'è nessuna climatizzazione e quindi è chiaro che quando fa caldo fuori dentro si soffoca. Alcune emergenze sono migliorate. In particolare c'era il problema della mancanza della lavanderia e sono delle lavatrici per ogni settore, per ogni braccio e questo è sicuramente importante.